Partiamo in ritardo come spesso sta avvenendo ormai negli ultimi periodi ma soprattutto senza aver sanato nessuna delle questioni che avevamo sottoposto durante i lavori della sessione di bilancio in commissione nel corso del mese di dicembre. Abbiamo detto più volte che il bilancio è illegittimo perché scritto a mano e presenteremo anche in aula le nostre pregiudiziali. Abbiamo detto più volte che mancava e manca di una strategia il documento economico e finanziario, quello che in realtà era il più importante per questa legislatura perché avevano di fronte un'intera legislatura per dire cosa fare. Scompaiono grandi interventi come per esempio quelli legati all'edilizia sanitaria ai nuovi ospedali e non ce ne sono di nuovi. A parte il master plan è un documento economico e finanziario senza neanche un solo intervento strategico definito da questa giunta regionale. E il bilancio purtroppo non può che recepire questa mancanza di programmazione. A parte il dividersi circa 10-15 milioni di euro in una sorta di tiro alla fune tra assessori, grazie al lavoro che aveva fatto il centro-sinistra, per questo ci sono 10-15 milioni di euro di risorse in più, in realtà non si riesce a mettere un solo euro sul lavoro, sulle crisi, sulla questione per esempio della fauna selvatica, sull'agricoltura e il settore primario, nessun intervento per la costa, ancora nessun intervento importante, qualificante per gli interventi legati ai precari del mondo della giustizia e oppure per i trasporti, per gli studenti pendolari che stanno al di sotto di un certo tipo di ISEE, cioè di reddito. Ecco, nonostante ci fossero 10-15 milioni di euro in più, nessuna strategia, bilancio illegittimo e nessuno degli interventi appena elencati hanno conosciuto la possibilità di avere un solo euro in più. Ecco perché diciamo no a questo bilancio, vizi di forma e di sostanza.